Asia Valente Non aggiungo altro ma vi lascio le stories del dissing fra i due Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate Noi ci vediamo un prossimo video in linea allo studio Anche se ho zero follower ero figo lo stesso Intanto il mio culo è su playboy Ti faccio bye bye toy Eh no E che devo pensare Ti sei tatuato il culo mio addosso e manco te l'ho data No non si tocca Sento la gente parlando e sei game over Cioè se voglio io faccio perdere il lavoro a tutti così come lo faccio diventare famoso Oggi la gente se vuole diventare rich e famous sentirà me Ok